No, infatti è stata una stagione fantastica, io ho ringraziato già i miei compagni per questa avventura, è stata un'avventura fantastica. È stato brutto perdere così per 4 gol, prendere 4 gol, ma troppo questo... Quale è il più bello della stagione? Il 17 agosto, quando abbiamo iniziato, perché già da lì si è visto che era un grande gruppo, siamo un gruppo di amici. Io come ho detto già ho fatto pure un ringraziamento su Facebook, ringrazio tutti, ringrazio in primis il mister che ci ha dato tanto, il prof che pure ci ha aiutato. E poi ringrazio la società, i ragazzi che ci hanno guardato sempre, ovunque, ma il ringraziamento più grande è con i miei compagni di squadra, sono stati grandissimi. Ma forse questa è stata proprio la forza della Polisportiva, il gruppo? Sì, è stata la forza del gruppo, ti ripeto, è un gruppo fantastico, vedere a fine partita tutti rimaneggiati, anche i compagni che vengono da, chi da Vallo, chi da Agropoli, e prenderla così penso che è una grande soddisfazione per tutti.